buongiorno vediamo oggi cosa dirà l'oroscopo ariete occorre riflettere sul senso della vita e decidersi per l'umiltà non fatevi trovare impreparati toro un'amica non molto sincera potrebbe crearvi qualche piccolo disagio siate prudenti gemelli le straordinarie capacità che avete di prendervi anche dai duri colpi oggi vi saranno molto d'aiuto cancro oggi tenderete a chiudervi in voi stessi rischiando di compromettere dialogo tra voi e gli amici i colleghi e il vostro partner leone in modo molto discreto cercate comunque di capire che qualcuno vi pensa e nutre per voi di dolci sentimenti i suoi propositi comunque sono buoni ma è timido vergine il peso delle vostre sofferenze passate oggi potrebbe farsi sentire di più del normale bilancio non badate ai pettegoli cercate di portare avanti le vostre idee con più determinazione scorpione oggi godetevi le carezze che venere vi riserverà momenti romantici si accompagneranno momenti abbastanza dolci sagittario apprezzate di più gli sforzi di una persona che vi sta dando una mano in un momento molto critico capricorno cercate di essere più presenti con il partner perché in questo momento ne ha davvero bisogno acquario non abbiate timore di osare se state pensando di organizzare un viaggio fatelo con tranquillità pesci non c'è molto da pensare oggi ma solo molto da agire fatelo però con l'abituale prudenza e buon senso questo è tutto al prossimo appuntamento con l'oroscopo